Grazie per aver organizzato questo convegno, utilissimo incontrarci periodicamente e fare il punto su questo tema. Tra l'altro al tema principe che è il consumo del suolo ho sentito con piacere che si sono innestati vari altri discorsi, vari altri punti sono stati toccati, perché tutto alla fine si incastra, per esempio sono stati inseriti anche i temi del recupero del patrimonio dell'Izio, il problema dei posti di lavoro da salvaguardare o da addirittura creare, tema agricolo, dell'agricoltura estremamente connesso, quello dell'edilizia, quello del rischio idrogeologico, quindi ecco sono tutti punti che abbiamo visto benissimo che da un punto di vista tecnico possono benissimo incastrarsi tra di loro. In maniera coerente, il problema è che dentro al Parlamento, io sono un deputato, vedo che non si procede in maniera coerente e conseguenziale, nel senso che purtroppo ci sono vari stimoli, vari pulsioni per accontentare una lobby, un gruppo di potere o l'altro e questi punti non vanno avanti in maniera coerente, ma spesso vengono messi in contrasto e in competizione tra di loro. Io riflettevo per esempio, mentre assistevo agli interventi che si sono susseguiti, che il territorio italiano potrebbe essere grossolanamente suddiviso in territorio agricolo, territorio forestale e tessuto urbano, diciamo così, e ultimamente sostanzialmente si può verificare che è lo sviluppo urbano che l'ha fatta da padrone a discapito degli altri. Soprattutto sottolineo che gli altri sono stati fagocitati e lasciati a se stessi e quindi il settore agricolo è stato da una parte aggredito dal tessuto urbano, dall'altra lasciato a se stessi e è stato invaso per dinamiche naturali dal territorio forestale, perché la foresta, nelle ali soprattutto di alta montagna o collinare, tende ad invadere, ad espandersi e a mangiare il territorio agricolo. Quindi ecco, secondo me il lavoro che dovremmo fare tutti insieme dentro il Parlamento è quello di trovare un nuovo equilibrio tra questi tre settori, diciamo così, e da questo punto di vista mi sembra che le proposte sul piatto ci sono. Vediamo per esempio cosa viene fuori da queste proposte di legge sullo stop al consumo del suolo e alla tutela del territorio agricolo. Tra l'altro il lavoro nel comitato ristretto che si occupa di trovare una sintesi tra le proposte. Speriamo di riuscire a trovare appunto un equilibrio tra questi tre cardini su cui si dovrebbe reggere il territorio italiano. Stiamo lavorando anche sulla rete delle agenzie, dove Ispra coordina tutte le agenzie ambientali. Anche lì sono molto contento del risultato che stiamo ottenendo e tra l'altro siamo riusciti ad inserire alcuni punti che rafforzano il ruolo di Ispra nella tutela del territorio, mentre l'idea iniziale era quella di lasciare una rete che si occupasse più di aspetti sanitari. Invece secondo noi ci siamo impegnati fortemente, ci siamo battuti per lasciare Ispra che potesse coordinare e presidiare il problema anche territoriale. Poi un piccolo spot sul fatto che questo tassello che vediamo del consumo del suolo, se riusciamo a farlo per bene, è il primo tassello per iniziare a risolvere anche il problema del rischio idrogeologico di cui mi occupo più direttamente. Tra l'altro si incastrerebbe perfettamente con altre proposte di legge che sono state depositate in Parlamento dal mio gruppo parlamentare, io proprio a prima firma ho depositato due proposte di legge che cercano di inquadrare il problema, una tra l'altro è stata calendarizzata da poco in Commissione Bilancio, l'avevo presentata anno scorso, poi ci sono state le lunghe agaggini burocrate e si occupa, propone sostanzialmente di sbloccare dal patto di stabilità interno tutti gli investimenti che gli enti territoriali effettuano per il rischio idrogeologico, non solo per le emergenze ma soprattutto per investire in prevenzione e mitigazione. È un tema che fortunatamente è stato ripresso anche ultimamente da altre forze politiche quindi speriamo di collaborare insieme e di portare a casa anche questo risultato che come dicevo si potrebbe incastrare benissimo con la tematica dello stop al consumo del suolo. Quindi concludendo mi piacerebbe un commento sostanzialmente su questa possibilità di fare sinergia per portare a casa risultati di questo tipo e di riequilibrare i rapporti tra questi tre diversi settori del territorio italiano, quello urbano, quello forestale e quello agricolo. Grazie, grazie onorevoli Segoni. Ci sono altri interventi dei gruppi parlamentari? Non mi pare. Allora prima di dare la parola anche a colleghi volevo ringraziare i gruppi parlamentari, vogliamo ringraziare i giovani nel senso che in questo percorso ci hanno aiutato moltissimo. La nostra interlocuzione attraverso i gruppi parlamentari è stata importantissima anche per capire quale doveva essere la strutturazione interna, interna al sistema e come si doveva rapportare il sistema verso l'esterno. Questo credo che sia stato un elemento di equilibrio e continui ad esserlo e continuerà ad esserlo per quanto c'è possibile, anche nel rapporto con l'Europa, cercando di portare quello che è una volontà del Paese. A queste cose questa Presidenza crede molto, ha sempre dedicato il suo tempo, la sua vita, credendo in questo e credo che questo sia un elemento, e rispondo a Samoria Segoni, credo che sia l'elemento di partenza, quel discorso sulla sfericità dei tematismi e quindi di portare anche i vari elementi legislativi a parlare tra di loro cercando di superare, trovando un equilibrio, un discorso che vi facevo prima, un equilibrio evidentemente tra i diversi interessi, le diverse forze, le diverse stakeholders e compagnie varie, ma cercando di farli convergere in quel principio che Rousseau, e io ripeto anche alla fine, ritengo assolutamente valido, che le test diventano rotonde quando si fregano tra di loro e non quando stanno ognuna per una sua parte. Quindi io credo che questo sia un processo importante, ognuno col suo ruolo, e credo che a questo vorrei chiamare anche la comunità scientifica, quindi Fabio Terribile, il quale fa parte di quella... Sì, no, no, vieni qua. Il quale fa parte di quel che ho richiamato all'inizio, fa parte di quegli scienziati che a un certo punto invece di camminare solo sul suolo si sono posti il problema di guardare cosa c'era nel suolo. Questo manipolo di coraggiosi che in realtà, proprio per quella definizione di difesa del suolo della 183, in parte sono stati anche danneggiati, perché in qualche modo i grandi processi, gli eventi franosi, gli eventi alluvionali, gli eventi hanno in qualche modo ridotto la sfera di visibilità di questo ambito. in una legge quadro assolutamente straordinaria come la 183, perché cercava di cogliere quello che era una necessità del Paese in quel momento e la raccolta per molti anni, e credo anche meglio, di alcune leggi attuali. Quindi chiedo a lui di rappresentarci un po' dal suo punto di vista, dal punto di vista della comunità scientifica specifica di settore.